Il fatto di scrivere poesia in lingua corsa un cenuto originale di me è cominciato con la passione di un canto avevo dici qualche decina d'anni fa la necessità di scrivere per un primo gruppo che abbiamo fatto che si chiamava Altagna Alepica e c'era qualche sia che si mette a propone un po' di parole mi è venuta così e poi dopo quando a un momento Saffari si ferma Olasio li scrive, ho piacere che si è continuato così fu anche la necessità di un canto, la scrittura si è avviata Ogliamo tra canto e poesia, c'è di sicuro solo gli amici della partenza nel principio per me, ma dopo c'è stato il piacere scopato infatti della scrittura per se stessa, per la stessa e mi è successo parecchi volte di scrivere così senza intenzioni particolari e dopo che una poesia vista da chi sia che gli conveniva per mettere la musica mi è stato mandato a te questa qui e poi arriva a muovere la canzone e poi certi si soffermi senza musica so che la sua musicalità non era mica così esatta per mettere la canzone è un affare che succede un colpo sì e un colpo no non c'è mica un calcolo né una unità a partenza L'ispirazione della scrittura e della poesia è abbastanza varia una dei primi, se mi ne vengo bene, sarà stata l'ucciata portata ai petri di M. Cerconde in Alta Rocca che mi ha dato una razza di scuzzolata così che mi ha quasi forzato a scrivere, dicendo a radio e poi accanto a questa che è una dei primi ci può essere di tutto certi olti un lume, un colore, una parola di qualche sia o eventi che siano tragici o allegri infatti non c'è mica una regola che corrisponde alla sensibilità a quel momento a quella che taglia il suo momento che accende o non accende mica l'unità di impinare C'è di sicuro in la scrittura qualcosa che accende un'influenza di voi di già uno che non c'è mica creazioni ex Nilo non cosa come tutti mi ci vuole qualcosa e si influenzano appena tutte le scritture che mi vanno di sicuro la poesia francesa e il suo catalogo di metafori un poco sopra realisti che mi hanno sempre fatto un effetto tremendo a un momento dato di noi nella mia scrittura penso che Neruda ha pesato un poco nella mia scrittura parlai a un momento della mineralità di Petra e di Meloca quando Neruda ha avuto le pierre del cielo non si tocca di noi particolarmente c'è un bagno un poco più largo non lo so che credo di Corsica che mi permette di nutrirmi di pensare e di sensibilizzare altri in ciò che tocca la strada poetica ad esempio impressioni non avevo anche principiata mi pare sempre adesso un comienzo adesso un principiante un po' con timorito non sa troppo dove andare e ho pensato che comienzo a essere guidato ogni volta che c'è qualcosa che si affacca di rileggere tutto ciò che è stato di già fatto per vedere se anche senza farci caso non c'è mica qualcosa che avessi già detto e che mi ulteriessi in un'altra scrittura altre lingue hanno sicuro un socio particolare per via di sapere di danza non c'è manca spiegare con l'italiano sicuro, non c'è mica l'offesa quindi che stanno assente di parlare di Dante per un detto poi di nuovo un occhio che comincia a essere portato un lingue che comincia perché mi pare che sia sempre in principio la lingua citana e catalana a tutti si parla di usoli di Ciaraccio la mia musica litica io so quello poche micca di spatronata di Farenza senza voci che rumbicca quello che in nasolingua pensa la mia lingua di quando mai di senza nomo senza loco contalori come di guai e di me speri di ravuco un crudo silenzio ci teni l'ingiusta bugia galcica ma la mia musica litica ed è capace di me veni il silenzio più che rimuri ecco la guì la sorte ingiusta ma la mia musica è la brusta ormai il mio sanguguri era io lo parchi micca rinato una mia differenza oggi la mia morte vincirica la mia lingua si vagge immensa cresce immensa la gugiarrata di usenza tara nel nomo chissà lo parchi e lo gommo d'una indignità recusata cresce immensa la diamo a voco in sta lingua di quando mai di usenza dritti nel loco che vuol più contare i suoi guai di usenza di usenza di usenza